Questa settimana a Vesper parliamo di politiche sociali, un tema importante nella vita di una comunità ma che purtroppo nel corso degli anni ha registrato la problematica gravissima quella della riduzione delle risorse finanziarie disponibili per gli enti locali, dunque purtroppo da qui la deprimente metafora della macelleria sociale, spesso si è costretti a fare delle scelte e molto spesso ne pagano le conseguenze le fasce più deboli della popolazione. Ci sono delle situazioni che sicuramente sono peraltro peggiorate nel corso del tempo perché le sacche di povertà si sono incrementate, dunque bisogna capire in che modo si può intervenire su questo settore. Ne parleremo con i nostri ospiti, le ringrazio per aver raccolto il mio invito, ve li presento Davide Emmi, Assessore del Comune di Sciacca con delega alle politiche sociali, accanto a lui Marco Mustacchia, presidente della cooperativa Arcobaleno che garantisce determinati servizi nei confronti delle fasce più deboli della popolazione in partnership col Comune, la stessa cosa fa la cooperativa Valden di Menfi e ringraziamo il suo presidente Antonino Buscemi, così come ringraziamo Daniela Campione, l'assessore, ex assessore alle politiche sociali, diciamo il predecessore di Emmi in questo senso. Intanto cominciamo con una prima riflessione proprio dalle cooperative, dal mondo delle cooperative che fanno un lavoro molto importante e che talvolta, Marco Mustacchia, vi trovate anche nella difficoltà di garantire la continuità dei servizi perché magari non riuscite ad ottenere il giusto riconoscimento a livello di pagamenti che vi spettano da parte dell'ente locale. La cosa che le chiedo inizialmente è questa, quali sono i servizi che Arcobaleno garantisce per conto del Comune di Sciacca in questo momento? Intanto buonasera a tutti, diciamo i servizi che la cooperativa Arcobaleno offre sono veramente tanti, con il Comune di Sciacca offriamo un servizio riguardante gli immigrati per cui minori stranieri non accompagnati, richiedente asilo politico, abbiamo dei servizi per la disabilità vesichica, abbiamo attività come il micronido, attività del tipo supporto, assistenza domiciliare agli anziani, ai portatori di handicap, a disabilità in genere e poi tanti tanti servizi, noi offriamo diciamo sia alla città di Sciacca ma anche in altre città dove operiamo all'incirca sui 20 servizi, per cui sono veramente tanti, per cui anziani, minori, disabili, extracomunitari. Ecco, questi servizi sono stati ridimensionati nel tempo per l'assenza, per la riduzione delle risorse finanziarie da parte del Comune? Sicuramente oggi rispetto a qualche anno fa sono stati un po' ridimensionati, non è il nostro caso, nel senso che noi come cooperativa facciamo diverse attività e questo ci permette anche di variare, per cui se una parte di un'attività tipo gli immigrati non va bene, ci occupiamo di altro, per cui da questo punto di vista noi non possiamo, non abbiamo indietreggiato, ma siamo andati avanti facendo altri servizi, grazie naturalmente alla partnership con le amministrazioni che sono sensibili da un punto di vista di attività, di coordinamento, di sostegno. È chiaro che la parte che riguarda la parte economica non sempre dipende dalla parte, diciamo, delle amministrazioni locali, perché i soldi vengono da parte del Ministero degli Interni, vengono da parte del Ministero di Grazia Giustizia, vengono da parte dell'Inpes, per cui insomma sono fondi che arrivano dall'esterno, per cui il Comune… Anche questi però si sono ridotti un po'. Questi si sono ridotti, però oggi diciamo che lavorando, intercettando un po' questi bandi, perché principalmente si lavora su bandi, possiamo dire che oggi offriamo un servizio diciamo abbastanza… che ci permette di offrire un servizio variegato e dare risposte insomma alle facce più deboli della nostra città. Bandi europei? Bandi europei, bandi regionali, bandi nazionali, insomma cerchiamo un po' insieme di essere in in sinergia con i vari enti, il Comune, il Ministero, l'Asp, insomma diverse cose che ci permettono… Quindi gli strumenti ci sono? Ci sono, ce ne sono veramente tanti, forse non li sfruttiamo sufficientemente. Ecco, per quanto riguarda i cittadini di Sciacca, si ricorda in generale quante sono le persone a cui voi fornite assistenza? Ma grossomodo parliamo di un numero, se per esempio pensiamo anche… noi offriamo anche il servizio di banca alimentare, per cui sono all'incirca come 1200 persone, quasi più di 200 famiglie, poi ci sono altri servizi, per cui riteniamo intorno a 1500 persone offriamo servizi. Che è un numero piuttosto significativo che ci induce a riflettere su quello che magari significa anche l'aumento della povertà. Sì, diciamo che non è soltanto legato alla povertà, ma offriamo anche servizi, persone tipo l'assistenza domiciliare che rientrano in una certa categoria, assistenza ai portatori di handicap, per cui insomma ci sono varie fasce, ma è chiaro che la povertà è aumentata sul nostro territorio, i bisogni sono aumentati perché chiaramente il lavoro è venuto a mancare da un punto di vista lavorativo, ci sono molte famiglie di fascia media che molto spesso perdono il lavoro e si trovano in grande difficoltà. Presidente Buscemi, quali sono i servizi che la cooperativa Valden ha? I servizi che fa l'Istituto Valden sono principalmente Comunità Logico per i Minori e Casa Famiglia. Noi operiamo sia più a Menfi e anche a Sciacca, per Sciacca abbiamo due le due strutture. Però devo dire che abbiamo anche progetti esterni, assistenza scolastica, assistenza con l'autismo, sono tanti altri progetti che abbiamo. Ma questa cosa che ha fatto Marco, io non sono veramente d'accordo, perché posso dire pienamente che i comuni ci stanno mettendo in ginocchio, ci hanno già messo in ginocchio, perché da 16 anni che facciamo questa attività mai abbiamo avuto questi problemi così gravi. 13 mesi, 15 mesi di ritardo dei pagamenti, questo dobbiamo discutere. Noi così non ce la possiamo fare più. Noi abbiamo visto che dal giro di un anno i ragazzi dati sono abbassati del 70-80%. Sì, si salva qualcuno con i Minori e i Pezza dopo accompagnati, però fino a quando si può continuare così? Io faccio parte di Fede Solità di Palermo e abbiamo tutti i tabulati, gli ingressi. Ebbene, lo Stato non ce la fa più. Non dico che non ce la fa le comuni, lo Stato non ce la fa più. Paradossalmente aumenta il fabbisogno, non diminuiscono le risorse. Abbiamo gli stessi soldi, perfetto. E quindi lo Stato non ce la fa più. E quindi i comuni non inseriscono, anche casi gravi che noi assistiamo, sono richiamati, sono delle piccole cose, non si portano avanti, non si possono portare avanti. Perché i comuni non ce la possono fare più a fare questo. Allora io dico, fino a quando continuerà questo? Certo, sono figli di Dio, io non voglio mettere... Io ricordo che l'ultima giornata abbiamo fatto la settimana scorsa a Palermo, 15 anni fa. Nel 2015 hanno stato speso 18 milioni di euro per i minori in tutta l'Italia e ora siamo quasi al doppio, con i minori nel senere non accompagnati. Ecco da dove viene la forte crisi. E come i comuni, i sindaci, l'Anci si interessa di questo problema? Sì, i comuni si interessano a questo problema, se non lo rendono d'accordo, ma chi ricovera per ora? Sono i casi gravi. Ci sono molti casi apparentemente non gravi, che però... Apparentemente non gravi perché sono gravi. Vai a discutere con queste famiglie, che dirgli che non sono gravi i loro casi. Perfetto, ok. Altro che non sono gravi. problemi. E quindi giustamente poi abbiamo un sistema di qualità ottimo noi, ma abbiamo grossi problemi di portare avanti le docostrutture. Anche perché voi, le vostre cooperative danno lavoro a diverse decine di persone, no? Sì, sì, sì. Io ne ho 35 che lavorano con me. Dovete anche pagare lo stipendio a queste persone. Sì, abbiamo pagato lo stipendio a queste persone. Sono tanti i problemi, non è solo uno. E lei come reagisce quando, insomma, il mondo delle cooperative, in modo in generale, un po' finisce nel mirino delle polemiche? Qualcuno dice che ci sono speculazioni? No, no. Sono tutta falsità che ha fatto crocetta con altri disabili gravi, che ha scherzato con i disabili che non doveva scherzare. Stanno anche scherzando con il SIA, perché SIA è nato per assistere alla famiglia. Mi dice cosa significa? Sostegno alla povertà. Sostegno alla povertà. Perfetto. Dobbiamo assistere a una famiglia intera. Allora, psicologo, questo, quello, quell'altro. Per vedere, di trovare nella famiglia chi può ottenere avanti da quella famiglia. E quindi formare quella persona che è individuata nella famiglia per portare avanti un progetto. E posso sostenere anche la famiglia con il loro lavoro. Ma come facciamo noi così che già i comuni stanno cercando di fare improprio tutto e poi non lo so se possono fare tutto? Mustacchia, cosa possiamo aggiungere rispetto a questo quadro? Allora, diciamo che condivido in parte quello che diceva Nino Buscemi, però oggi ritengo che le sfide sono tante. Le cooperative si devono attrezzare, perché sappiamo bene che i soldi pubblici saranno sempre di meno. Per cui bisogna intercettare altre cose. Quando io parlo di Ministero degli Interni, fondi IMPES, oggi bisogna, secondo me, l'ente comune dovrebbe attrezzarsi un po' di più. Su questo non ci piove, perché i ritardi molto spesso non sono legati al fatto che non arrivano i soldi, sono legati al fatto che bisognerebbe potenziare quel servizio. Se oggi i soldi sono per i servizi sociali e ce ne sono veramente tanti, perché il comune di Sciacca ha difficoltà forse a potenziare quel settore? Ne abbiamo parlato con Davide diverse volte, no? Però quello oggi è il tema principale. Cioè dire, il comune si deve attrezzare ed essere più efficiente perché arrivano i soldi e praticamente vengono posteggiati per una questione non di cattiva volontà, attenzione, ma perché non ci sono sufficientemente risorse che possono intercettare i bandi e poi lavorarci nella quotidianità. Se questo avviene, per cui noi, diciamo, dobbiamo andare avanti. Le cooperative si devono attrezzare, ma anche i comuni. Oramai i comuni... Ecco, e le polemiche sulle cooperative, lei come le recitisce? No, sono soltanto strumentali, perché oggi quando si parla di immigrati, per esempio, facciamo l'esempio di immigrati... Sì, la polemica principale è quella. Sì, è quella. Per cui oggi noi abbiamo numeri veramente limitati sul nostro territorio, perché dobbiamo parlare esclusivamente di integrazione, non possiamo parlare di accoglienza. Quando parliamo di immigrati, dei grandi numeri, dove in certi posti ci sono 2.000, 3.000 persone, è chiaro che diventa un business. Come fai a integrare 2.000 persone oppure vicino a noi, c'è a Siculiana, un centro di accoglienza dove ci sono. C'erano 500 immigrati, adesso ce ne saranno 350. Ma dove li integri questi? Tu fai soltanto accoglienza, per cui con i grassi numeri è chiaro che il personale... Tra poco ne parleremo, perché questo è un argomento che mi interessa molto. Professoressa Campione, cominciamo da una prima riflessione. L'ex assessore, questo grido d'allarme di Buscemi e poi gli auspici di Mustacchia, come li valuta, come li considera? Sono i due lati della stessa medaglia, sono veri entrambi. È vero che i comuni sono in ginocchio, ma è anche vero che i soldi ci sono, cioè non è vero che non ci sono. Guarda Massimo, io penso una cosa, che intanto una società si misura dalla qualità dei servizi e soprattutto dal fatto che eroghi i servizi, perché altrimenti siamo terzo mondo. Ed è vero quello che dice il dottore Buscemi, io non riesco più a pagare gli operatori e dobbiamo dire grazie ai loro operatori, perché oggi non si comportano come fanno per esempio altri operatori che per un mese non vengono pagati e non buttano nessuno fuori. Si alzano la mattina e vanno regolarmente a lavorare e con il cuore, io riconosco tantissime, umanamente, con il cuore, sono la parte più bella, più sana, più umana. Anche perché poi si crea questo rapporto di affetto anche con le famiglie, con i soggetti deboli che hanno bisogno di essere assistiti, domani non vengo, è un problema, diventa una tragedia. Io lo dico a beneficio di quei telespettatori che non vivendo, per fortuna loro naturalmente, problemi di questo tipo, non si rendono bene conto di cosa significhi l'attività di una cooperativa sociale nei confronti dell'utente, insomma. Io faccio l'esempio personale, l'assistente è all'autonomia di mia figlia, conosce mia figlia da quando aveva tre anni e la segue da quando aveva tre anni, cioè è la seconda mamma di Aurore. Partiamo di questo. E non ha mai guardato se si spende il servizio, le continua facendo volontariato a volte. Quindi dobbiamo intanto applaudire alle cooperative perché sono loro quelli che sono erogatori dei servizi e servizi importanti. Ma perché il comune non riesce a essere puntuale? Qui ha ragione, non è soltanto una questione, è di organizzazione, non ha torto Marco Mustacca dicendo che è sottopotenziato il personale, è un po' che mi sento responsabile. Io mi rendo conto di una cosa, che durante l'operato che ha avuto in carico la mia persona, quindi il mio assessorato, abbiamo in un solo anno fatto partire 700 mila euro solo del vecchio piano di zona, quindi che ancora adesso con i PAIST ora sta riprendendo. 700 mila euro come soltanto il piano di zona del vecchio piano di zona, poi tutti i progetti che si sono fatti. Io per venire qui, visto che adesso ho ripreso il mio lavoro, sono andata a guardare la relazione del sindaco, sono tantissimi, cioè nel giro di un anno e mezzo abbiamo congestionato gli uffici, quindi abbiamo Oncare, abbiamo lo Sprar, abbiamo lo Sportello Ascolta Scuola, avevamo perché adesso si è sospeso, visto che l'altro piano di zona non è partito, l'educativa domiciliare, ma soprattutto un fiore all'occhiello di questa amministrazione, il micronido, perché mi ricordo che due settimane fa è stato inaugurato a MENFI un micronido a Sciacca è datato, quindi sono tre sole persone che fanno un lavoro. Sono tre che fanno questo lavoro, sono tre? Sì, assistenti sociali tre che si occupano sia del piano di zona, di tutti i... Piano di zona significa la famosa 328? Sì, ma anche per esempio la SIA, per esempio, che ha impiegato tantissimo le risorse, ma anche tre dell'amministrativo. Quindi se sono in tre, se c'è tutta questa congestione di fatture, di rendicontazioni, non è così semplice, ma non è assolutamente semplice, anche perché sono persone che vivono di stipendio e penso che nessuno piaccia avere problemi con il proprio lavoro, di questo sì, indubbiamente, però ha ragione anche Marco, è normale che la cooperativa deve essere versatile, come l'amministrazione deve essere anche versatile. Nel senso che quelle che sono le intercettazioni dei fondi va benissimo così, nel senso che si devono potenziare, anzi intercettare, un po' carente quella europea, però è ben salda quella del Ministero degli Interni e del Long Care che adesso sta ripartendo. Mentre sul bilancio ci sono i minori, ecco la regione, sì ci sono i minori e i casi gravissimi non vengono attenzionati per come dovrebbero, anche perché lì c'è pure, essendo tre assistenti sociali, una congestione, io mi ricordo un ferro all'occhiello di questa amministrazione, è sicuramente l'affido familiare, che è un mio, nella mia trascorsa, nel registro, come si dice? Consigliatura. Consigliatura, no neanche, l'amministrazione. Abbiamo affidato ben sei bambini, regolamentando e disciplinando anche gli interventi. Che sono servizi di una delicatezza estrema. Estrema, guarda. Che devono passare tra le scartoffe, la burocrazia, il poco personale, poi uno va, mette insieme cose che sono apparentemente incompatibili. Si va sul penale pure, perché se sbagli la famiglia, sbagli l'intervento, oppure ritardi quell'intervento, è un materiale umano, vivo e quindi non semplice. Stiamo capendo molte cose, Assessore Emmi. Intanto la domanda che voglio farle è questa, sulla base delle cose che sono venute fuori in questo momento. Un'amministrazione, che tipo di scelta politica può fare, sulla base delle condizioni che ci sono, perché le risorse sono di meno, anche se sappiamo, come dice la professoressa Campioni, che ci sono. Però poi si scopre che ci sono soltanto tre assistenti sociali in un comune come Sciacca, una burocrazia molto limitata, che però è costretta a fronteggiare tutte queste emergenze. Poi il candidato al sindaco dice, io sulle politiche sociali farò, ma poi cosa può fare realmente? Alla fine vorrei essere più realista del re, se è possibile. Vabbè, vi dico quello che stiamo facendo. In realtà ha ragione Daniela quando dice che i soldi ci sono, vengono erogati dalla Regione, vengono erogati dal Ministero e fino ad oggi, e dico fino ad oggi, pur avendo questa disponibilità economica, lo Stato non ti dava la disponibilità di assumere, anche temporaneamente, che vada a sé che tre assistenti sociali per una popolazione di 42 mila abitanti sono pochi. Anzi, io pubblicamente devo ringraziare tutti gli uffici che fanno salti mortali, dalla signora Ingrando alle assistenti sociali, fanno un lavoro immenso, che non passi l'idea che sono gente che si gratta la pancia, ma lavorano dalla mattina alla sera. Purtroppo lo Stato non ti dava la possibilità di assumere. Ti do un dato, io il 9 di aprile c'è stata una convocazione a Lanci, a Roma, e si parlava proprio di questo argomento. E' emerso che sui 280 milioni di euro stanziati dallo Stato per i distretti, 140 stanno tornando indietro, ma non è un problema, perché un problema in quella sede dell'Anci è emerso che è un problema di personale. Il Ministro l'ha capito, il Ministero l'ha capito e adesso dà la possibilità di assumere personale, anche a tempo determinato. Vi faccio l'esempio della SIA. SIA è una delle opportunità che abbiamo colto al volo, devo ringraziare gli uffici che hanno fatto il lavoro in mane, e siamo uno dei pochi comuni in Sicilia che è riuscito ad entrare nella prima finestra del SIA, cioè a novembre, credo che siano solamente sei in tutta la Sicilia, e ce l'hanno finanziato, ce l'hanno approvato il progetto. Noi all'interno di quel progetto assumeremo sei assistenti sociali, due amministrativi e un tecnico, o un operatorio, no scusi, un'amministrativa e due psicologi. Quindi noi ci rendiamo conto che il problema è quello, e proprio per questo ci stiamo attivando, ci stiamo attrezzando per questo. Diciamo, per essere chiari, per non far tornare indietro questi soldi. Quello è un problema nazionale, certo. Per noi, per quello che ci riguarda. Perché sia, al contrario, io non la penso come Presidente Buscemi, è un'attività eccezionale, sostengono l'inclusione attiva, è una grande scommessa, diciamo, del governo Renzi. Dà la possibilità alle famiglie di, nel tempo, dargli la possibilità di trovarsi un lavoro, di formarsi, di fare delle corse di formazione. Nel frattempo lo Stato gli dà un qualche cosa mensile per tirare avanti in questo periodo. Gestiamo un po' l'America. Il progetto deve essere individualizzato per la famiglia, è la ragione per cui stiamo assumendo sei assistenti sociali. Proprio per questo, perché io rifaccio i due numeri di Sciacca, ci sono stati 440 famiglie che hanno fatto richiesta, siamo riusciti a accontentare tramite requisiti che erano molto ristretti, 280 famiglie. Oggi 280 famiglie a Sciacca hanno un indennizzo mensile pari da 300-400 euro e sono entrate nel progetto SIA. Che durata ha il progetto SIA? Il progetto SIA è durato in tre anni, ma dalle notizie che noi abbiamo sarà riproposto negli anni. Non si fermerà. Rispetto al distretto, noi abbiamo presentato la seconda annualità, fine marzo credo che sia stato, e anche lì l'economia che abbiamo avuto, abbiamo avuto dell'economia, abbiamo concentrato altri soldi sulla novità di quest'anno e abbiamo implementato le somme per il centro diurno per i disabili, che era una richiesta che proveniva da varie associazioni, perché oggi ci troviamo le famiglie che nel periodo post-scolastico del ragazzo hanno grosse difficoltà. Quindi era previsto il centro diurno nel progetto allora stilato da Daniela e per la prima annualità non c'erano le somme, per la seconda c'erano 50 mila euro, noi l'abbiamo implementato gli altri 50 mila euro, quindi il centro diurno sarà fattivo. Anche lì abbiamo trovato delle risorse per assumere altri due assistenti sociali, perché il problema è quello, il dramma è che ci sono i soldi, ci sono le opportunità. Saranno un tempo determinato queste? Sì, sì, naturalmente. Durata? È triennale alla SIA e mi pare che è biennale sul distretto. Le faccio un esempio, circa un mese fa mi arriva un'email della regione su un progetto che si chiama Vite Indipendenti e purtroppo questo email mi arriva il venerdì alle due, io apro la mia posta l'edì mattina e la regione mi comunica che c'è questa possibilità scade mercoledì, cioè dopo due giorni. Ho pregato i miei uffici e devo dire, ringrazio la signora Fazio e tutti gli uffici che hanno fatto l'inverosibile, siamo riusciti a presentare la documentazione a tempo utile e ci hanno finanziato il progetto. Alla regione si sono anche un po' stupiti perché noi ci siamo riusciti, perché in verità è un progetto che parte nel 2014 e non ci eravamo mai riusciti ad entrare, è un progetto bellissimo per i ragazzi, non solo i ragazzi, anche adulti di vestimenti albini, per dargli un'occasione di lavoro, tirocinio al lavoro e creare la sua vita indipendente, nel limite del possibile. E anche lì ci sarà un indennizzo mensile di circa 400 euro, non solo, ci sarà anche la possibilità di un aiuto al disabile per raggiungere l'eventuale, chiamiamolo posto di lavoro, ma non è un posto di lavoro, è tirocinio al lavoro. Un posto di formazione. Ma per fargli capire cosa si fa per intercettare i fondi. Cioè in due giorni abbiamo dovuto fare... Qualcosa si muove. Seppur si muove. Quella è la sua opinione. Ma la mia opinione è che siamo fermi. Cioè nel senso io ringrazio il fatto che abbiano implementato, perché siamo andati personalmente dal sindaco a chiedere addirittura l'emanazione del bando, perché si parla di un bando scaduto nel 2015. Siamo sempre là, i soldi ci sono. Sono stati inseriti e per essere stati inseriti e cofinanziati dal comune, che non è cosa da tutti, ci è voluto una programmazione di due anni e mezzo che ha previsto proprio la fuoriuscita di alcuni minori, l'affidamento di alcuni minori e dargli una possibilità di vita familiare nel contempo e trovare le risorse per cofinanziare un piano di zona che oggettivamente aiuta tutti. Aiuta le famiglie in difficoltà col servizio civico, dovrebbe aiutare le scuole con lo sportello a scolto, dovrebbe aiutare le famiglie... Anche lì abbiamo implementato le somme di altri 30 mila euro sullo sportello. Dovrebbe aiutare le famiglie... Altri 50 mila euro l'abbiamo messo sullo sportello a scolto. Le famiglie disagiate con la ludoteca dovrebbe... Ma è del 2013, del 2015, solo nel 2017 penso che siamo... Meno male, meno male, ben venga, perché siamo un po' troppo fermi. Cioè queste cose dovrebbero essere inaugurate l'anno scorso, come minimo. Almeno con i miei tempi, mettiamola così. Io le avrei sì, le avrei sicuramente non lasciate, poi le avrei implementate per come è possibile, anche perché ci sono tante forme di cofinanziamenti e di intercettazione dei fondi. E quando non si spendono i soldi è danno. Io la penso in questa maniera. Fanno bene le famiglie dei disabili a scendere in piazza, perché quando non si spendono i soldi è un danno. È morticità. Le famiglie dei disabili, vogliamo ricordarlo, perché è giusto farlo, che hanno lottato per ottenere il famoso assegno di cura. Ecco, e anche la possibilità di accedere alle cure alla Fondazione Maugeri per i bambini disabili. È stata una grande battaglia che poteva essere un po' più snella. Dietro la burocrazia poi si trincera qualunque cosa, perché c'è sempre una spiegazione burocratica. Non è burocrazia, sono anche le resistenze di quanti non sono propensi all'innovamento. Assessore Emi, perché c'è questo ritardo poi a riconoscere quanto dovuto alle cooperative che offrono servizi? Per quanto riguarda per esempio il comune di Sciacca. Ricordiamo che la cooperativa Arcobaleno più di una volta ha dovuto anche protestare, ha dovuto anche minacciare e sospendere i servizi. A volte i progetti sono rilegati ad altri comuni, a volte. Attraverso il piano di zona? Sì, e quindi se gli altri comuni non concludono l'iter burocratico e sono sempre fortemente in ritardo, ma perché hanno gli stessi problemi che abbiamo noi. Addirittura lì ci sono assistenti sociali su più paesi, a scavalco, o neanche ce l'hanno. Quindi è un dramma sul dramma. Quindi a volte noi dobbiamo aspettare altri comuni per riconoscere le fatture, perché se non tutti fanno l'iter, il problema è sempre quella, il problema è del personale. Quindi io quando mi sono insediato dopo a Daniela abbiamo trovato la situazione negli uffici disastrosa, abbiamo cambiato il dirigente, quindi anche lì c'è stato un momento di stasi, perché cambiando un dirigente, purtroppo così è. Cambiando il dirigente, il dirigente nuovo ha un'idea, una visione completamente diversa, ha un'idea di voucher, ha un'idea di non fare le gare e dare la possibilità, come è già stato fatto precedentemente con i voucher, per evitare le gare d'appalto in modo che la famiglia si sceglie l'assistenza e l'assistente che vuole. E questo ti riduce i tempi. Le faccio un esempio. È tutto un procedimento legittimo, lo dico. Certamente, no. Perché come lei l'ha rappresentata, ci evitiamo la gara d'appalto. I voucher l'abbiamo fatto nel trasporto scolastico. È tutto un procedimento assolutamente legittimo. Le faccio un esempio. Noi faremo il servizio civico, la seconda normalità e sfrutteremo la gradatoria che abbiamo. Perché il dirigente ha guardato la gradatoria e siamo nei tempi limiti, non perderemo altri due mesi per fare un'altra gradatoria. Perché riaprire il bando significa che arrivano altre 2.000 domande e esitarle passano altri sei mesi. Quindi abbiamo deciso di utilizzare la stessa gradatoria e far scorrere la gradatoria stessa. Quindi i tempi si accorgono. Il problema è personale. E questa 328 è questa l'organizzazione possibile? Non ce ne può essere un'altra da quello che posso immaginare. C'è stato un tentativo di qualche comune di uscire fuori dal distretto, ma poi non si è concretizzato. Ci fu un momento in cui credo che Menfi... Veramente è stata sciacca a chiedere di separare insieme a Cattabellotta e Menfi non ha voluto. giustamente. Giustamente. E quindi anche lì è sempre... Lo spirito della legge è quello di mettere insieme, fare sistema. Però poi questo diventa un problema. Il nostro problema è che noi siamo il comune capofila e voi non voi siamo il comune di riferimento e alla fine della fiera, se non sono gli uffici nostri a fare, non si fa nulla. Presidente Busceni, vedo che lei è molto... Io ho detto un pochino avveranato. Prego, prego. Dite che avete soldi. Pagate i debiti fuori bilancio. Pagate 12, 13, 15 e 16. Le fatture per legge per 65 non devono essere pagate. Perché non le hai pagate? Debiti fuori bilancio era un ITER completamente diverso. No, accendo. Loco l'affido. Mi rivolgo a lei, a questa campione. Ho giustito per tre anni l'affido a Loco Familiare. Vi ha dato un bellissimo elenco di famiglie affidatate. Perché non si è continuato? Non si è continuato. Non si è continuato più. Io avevo cominciato. E sia, e sia, e sia, e sia, va bene, ok. State scegliendo di gestirlo voi. Ma come tutte queste funzioni le fanno voi, loro, ma saranno impiegati comunali, non saranno impiegati lo che sia. Invece le cooperative scendono in piazza, lavorano in piazza, lavorano con gli utenti, lavorano con le famiglie disagiate. Quindi conosciamo meglio noi il territorio e non voi. Per questo dico, le famiglie bisognose, caro Marco, lì assistiamo pure noi. Ma io mi sento dire alla famiglia, oggi mi puoi dare il pacco, mi puoi dare... No, guarda, non mi hanno mandato niente. Ma magari mi dia 10 euro. Io posso bisognere, ma non ce la posso fare più. Anche gli assessori lo fanno. Non ce la possiamo fare più. Perché il sia più... è un aiuto ai poveri per farli ancora più poveri. Sono convinto che è così. Sono un aiuto aiuto ai poveri per farli più poveri. Che lei, quando si toglie per un biennio 10 unità di ingaggio, toglie un sacco di soldi. Vediamo cosa dovete fare. Comunque, avete fatta questa scelta, io non voglio veramente... è indagabile di costo. La scelta è vostra e basta, non è un problema. Però io non sono veramente d'accordo... Perché lo gestisce il comune non è d'accordo e non lo gestisce la cooperativa o non è d'accordo sia in generale? No, non sono d'accordo e lo gestisce il comune. Ah, perché se lo gestisce la cooperativa funziona meglio? No, funziona meglio. Siamo sul territorio noi, non siete sul territorio voi. Questo è il problema. Io vedo Mazzara, Del Vallo, Marsala, stanno cercando, cioè hanno fatto già i bandi. È tutto dato alle cooperative che sono quelle sul campo di battaglia che... È una scelta discrezionale questa delle assunzioni del personale. Noi la Commissione ci ha certificato l'approvazione del progetto, credo, a fine febbraio, prima di marzo. Quindi siamo ancora nei tempi. Abbiamo aspettato la Commissione che si riunisse a Roma, abbiamo avuto notizie, credo, i primi di marzo. Mi ha chiamato la dottoressa Bicefazio per darmi la notizia. Quindi siamo lì, ci stiamo lavorando. Siamo completamente nei tempi. Siamo stati uno dei primi distretti che ha presentato tutta la progettazione e ce l'hanno approvato. Quindi ci sono comuni che ritengono le cooperative sociali avere un ruolo ancora più determinante di quello che hanno, anche attraverso i bandi di gara e poi magari la cooperativa può avere anche il bisogno di assumere altre professionalità. Questo è un tema interessante. Anche sul voucher. Sul progetto sia. Per fortuna che il Ministro li ha tolte questi voucher. Ma qua ci sono una presa in giro per l'impiegato. Non era questo tipo di voucher. Non hanno contributo. Stavamo parlando di cose diverse. Buoni servizio. Allora non diciamo voucher. Noi li chiamiamo impropriamente voucher. Ma non li chiamiamo più voucher. Non sono questi. Perché sono state un'arma ad ospedale contro l'impiegato. Perché non c'è niente. È un altro argomento. Scusi, il progetto sia fondamentalmente. Noi stiamo andando a stipulare dei protocolli perché poi vorrei che passi un'idea sbagliata. Io ci credo molto nella SIA. Ci ho provato e ci siamo riusciti. Il progetto mio sia fondamentalmente il bisogno primario di una famiglia oggi è il lavoro. E dargli dignità. Perfetto. Quindi cosa si è fatto e cosa si sta facendo. Nella SIA non è solo il comune che entra. Ci sono l'ufficio di collocamento. Ci sono chi fa la formazione. Ma fondamentalmente queste famiglie hanno bisogno di lavorare. Quindi cosa abbiamo predisposto? Che queste famiglie si individuano la persona che può in quella famiglia, che non è sempre né il padre né la madre, può essere anche un figlio, che può fare un corso di formazione, faccio l'esempio del pizzaiolo, e dargli quell'opportunità, quella possibilità di poi sostenere in proprio la famiglia e esce fuori da SIA. Nel momento in cui tu costruisci questa progettualità per la famiglia è evidente che è una famiglia in disagio ed ha anche bisogno di altro. E lì subentra l'assistente comunale che dovrà, per i bisogni della famiglia, elargire i servizi che può. Giusto? Dove potrebbe stare il controsenso? Affidarlo completamente a una cooperativa potrebbe significare che chi fa il progetto per la famiglia dovrà chiedere i servizi alla cooperativa in cui lavora. Quindi secondo me la figura del comune serve anche a questo. È imparziale, diciamo così. È più imparziale, più oggettiva e capisce il bisogno della famiglia e poi si orienta rispetto ai bisogni di quella famiglia. Ma fondamentalmente è il lavoro quello che è. Mustacchia, qual è la sua opinione? Sulla cosa che stiamo dicendo? Io sono d'accordo con Lino Buscemi da questo punto di vista, perché per una semplice ragione oggi affidare completamente al comune la gestione del SIA. Sul progetto SIA siamo d'accordo che fa crescere le famiglie. Su questo non ci piove. Quando tu assumi del personale in maniera a tempo determinato non dai continuità al servizio. Invece nei bandi normalmente che si affidano alle cooperative si dà la continuità. La continuità nel senso che le persone che ci devono lavorare devono avere già un'esperienza specifica. Il comune, secondo me, affidando direttamente a persone esterne, facendo questo bando, perché questo sto capendo. No, 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 ci potremmo anche fare un bando rispetto agli studenti sociali. Allora già questo è un discorso diverso. Io avremmo capito che il comune... Ci sono stati dei comuni che hanno affidato tutta la SIA a una cooperativa o a una società. Noi non abbiamo fatto questa scelta. È possibile che il dirigente individui un settore che possono essere, non so, gli assistenti sociali e si appoggia a una società esterna che può essere una cooperativa. Ma è diverso da dare tutta la SIA alla... Per questo non abbiamo fatto questa scelta. Secondo me il concetto della continuità è importante. È questo, perché oggi i bandi, quando si fanno i bandi, perché cooperative vincono i bandi? Perché si acquisisce un'esperienza già nel settore. Per cui tu presenti il personale che ha avuto già esperienza in quell'ambito. Allora, se lo fa la cooperativa può dare continuità. È chiaro che la supervisione deve essere fatta dal comune. No, è obbligatorio. Su questo non ci piove, ma ben venga la supervisione. Però ritengo che le cooperative che lavorano nel territorio, non soltanto da un punto di vista di un servizio, ma di tanti servizi e conoscono bene quali sono le realtà. Quello che diceva Nino Buscemi prima, noi siamo il front office della città, perché noi abbiamo centinaia di persone che ci vengono e tutte le settimane noi offriamo un servizio gratuito, come il Banco Alimentare, ma facciamo anche altri servizi che non promozioniamo, nel senso che... Banco Alimentare, le derrate sono ridotte, sono sempre... Sono ridotte, ma noi per esempio, personalmente, noi abbiamo preso fondi nostri e abbiamo fatto per il periodo di Pasqua, abbiamo comprato delle derrate alimentari, come il formaggio, come l'olio, l'abbiamo messo a disposizione delle famiglie, perché noi siamo... Quante famiglie serve il Banco Alimentare oggi? 250 famiglie. Sono tante. Sono tante, sono tante, considerate 3-4 persone, insomma, sono veramente tante. Per cui oggi ritengo che le cooperative devono collaborare con l'ente pubblico, l'ente pubblico ha la supervisione di tutto, però i primi interlocutori devono essere le cooperative e le associazioni. Una parentesi con lei, poi torneremo su questi argomenti. Quello che riguarda l'accoglienza degli immigrati. In questo momento, tra Sprar, a parte lo Sprar, quale altro servizio garantito? Ci sono altri servizi, insomma, Spot, insomma, e così via. Sono centri, diciamo, abbastanza grossi, 300, 500, sentiamo un po' in televisione. Oggi, diciamo, il Cass, insomma, ce ne sono tante sigle, insomma, che poi alla fine dicono, ci sono 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 centri di questo tipo. Sciacca oggi è un'oasi felice da questo punto di vista. Quante persone? Perché grossomodo noi abbiamo 60, 70, soprattutto minori, sono integrati benissimo nel territorio. Io credo che bisogna auspicarsi un'integrazione, per cui un aumento di questi immigrati sul nostro territorio, in maniera progressiva, che permette di integrarli. Perché oggi non si può più parlare di accoglienza soltanto, si deve parlare di integrazione, perché questa è la parola d'ordine. Ecco, io nel definirli esseri umani, perché ogni tanto qualcuno, questo se lo dimentica, che sono esseri umani, vorrevo chiederle questo. Cosa fanno questi minori? Allora, questi minori fanno delle attività come i ragazzi italiani. No, perché qualcuno, insomma, anche sui social, camminano con le cuffie. Anche i ragazzi italiani. Ecco, è quello che volevo dire. Dico, anche i ragazzi italiani camminano con le cuffie. Facciamo, le cuffie degli immigrati non vanno bene come gli italiani, sì, è per dire questo. Insomma, volevo capire questo. Cosa fanno questi ragazzi? Vanno a scuola, il pomeriggio cosa fanno? Vanno a scuola, fanno delle attività, diciamo, ludiche e recreative, attività sportive, sono inseriti nell'ambito di borsa e lavoro. I nostri ragazzi, il 50% sono inseriti nella gente. Ecco, si dice che siccome lo Stato dà un contributo per ogni minore immigrato... Ma il contributo è veramente limitato. Diventa una specie, come se fosse una specie di beneficio, no? Essere immigrato è quasi una specie di status, dimenticando quello che queste persone hanno... Hanno passato. Hanno dovuto subire per arrivare qua. Però, voglio dire, tutto poi la si fa facile. Però, ecco, la domanda è questa. Cosa fanno proprio? Fanno proprio attività scolastiche, per cui vanno a scuola, è obbligatorio oramai che i ragazzi vanno a scuola, per cui acquisiscono bene le informazioni dell'italiano, della nostra Costituzione. Ecco, si lavora in questo senso. Si fanno delle attività ricreative, dal teatro alla musica, tutto quello che... Sport, molto sport. Sport, molto sport. Insomma, abbiamo dei ragazzi veramente che stanno giocare, tra l'altro, anche abbastanza bene. A calcio, sì. E poi, praticamente, il 50% dei ragazzi viene integrato nelle aziende di Sciacca, soprattutto nell'elittico conserviero. Per cui, insomma, sono ragazzi che acquisiscono una competenza. Per cui questo è importante. Quando parliamo di integrazione parliamo di questo. Ecco perché è importante non avere grandi numeri. Solo per questo motivo, perché sennò finisce solo che facciamo, diciamo, accogliente. Dobbiamo fare integrazione. Assessore, questo fatto dei grandi numeri rischia di essere, tra virgolette, un problema, no? Vabbè, io la penso un po' come lei. Sono tutti figli di Dio, quindi si figuri, guardi. Se uno sta due secondi a pensare a quello che hanno passato per venire qua, ma quello che vivevano nel loro paese, ci dovrebbe passare tutta la mano sulla coscienza prima di esternare un po' di stupidaggini stupidaggini che si vedono semplicemente sullo social. Noi momentaneamente a Sciarca abbiamo i ragazzi minori all'interno degli sparati. I sparati hanno un numero ridotto, come dice Marco Mustacchi, dai 15 ai 30 ragazzi massimo. E lì riesce a fare un'attività di integrazione. Poi ci sono i CAS. I CAS sono centri d'accoglienza straordinario, che non passano attraverso i comuni, ma il prefetto che è contatto, è un privato che ha un immobile e ti porta 100-150 ragazzi. C'è stato nell'ultimo mese un'interlocuzione, abbiamo fatto circa tre riunioni in prefettura, sono stato convocato fino all'altro ieri dal prefetto. Noi attualmente a Sciarca, rispetto a una convenzione ANCI, Ministero degli Interni, noi a Sciarca dovremmo avere 168 immigrati adulti. perché c'è un coefficiente di 2,5 per mille abitanti che bisogna rispettare. Noi a Sciarca attualmente ne abbiamo 15-20. In realtà non è uno sparare attivato dal nostro comune, è uno sparare attivato da un altro comune, ma sono allocati nel nostro territorio. Quindi in teoria quello che ci scrive e ci sollecita il prefetto è di accogliere altri 148 ragazzi, non ragazzi, adulti stranieri che chiedono asilo politico. La situazione è, devo dire, abbastanza complessa, basta guardare qualsiasi telegiornale e arrivano a migliaia, in tre giorni mi sono arrivati a 8.500. Quindi il prefetto ci ha sollecitato ad attivarci. Noi lo stiamo facendo, abbiamo fatto già un atto di indirizzo al nostro dirigente per cui si deve attivare per istituire altri due o tre sparare. Stiamo parlando di numeri dai 15 ai 20 ragazzi. e poi gradualmente dovremmo arrivare a quei numi che ci impone la prefettura e il ministero. Sui immobili che il comune dovrebbe affittare? No, il comune non entra in merito, il comune fa il bando, poi dipende chi vince il bando, individua un immobile che deve essere adeguato all'ospitare queste persone. Diciamo che Siculiana supera abbondantemente la... No, quella è un'altra cosa, è un centro di smistamento dove arrivano a 400 immigrati e da lì poi li smistono in varie parti d'Italia e in varie province. E c'è un delle vede. Lei considera che ci sono comuni nella provincia di Agrigento che superano ben oltre il numero del 2,5. Questo è un tema politicamente scomodo, vero? Lo capisco, però è politicamente scomodo. Cosa pensa di questo fatto? Del fatto che, insomma, molti ci fanno campagna elettorale su un tema come questo e ce la farebbero. Poi io mi domando come fanno a fermare l'immigrazione, come fermare l'alba o il tramonto. Come fai a dire al sole fermati perché... Solo uno stupido potrebbe fare campagna elettorale su un dramma delle persone. Purtroppo ci sono anche gli stupidi. La mamma degli stupidi è sempre in avidanza. Quindi spero che nessuno la faccia, ma ripeto, è stato... E da quattro volte ci siamo visti col prefetto e si è deciso di... In missione graduale e anche perché nel momento in cui non si dà la disponibilità ad aprire uno SPRAV il problema va risolto. Certo. Che significa? Che nel momento in cui tu attivi lo SPRAV e fai quell'attività di integrazione con dei numeri bassi da 15, 20 ragazzi o adulti, fai il lavoro che fa egregiamente Mustacchia. Nel momento in cui tu non dai la disponibilità, tu il 2,5 per 1.000 abitanti lo devi fare, lo devi avere, a quel punto il prefetto, senza l'autorizzazione del comune, senza la gestione del comune, il prefetto dice a me sono sbarcati 800 immigranti, ce l'ho, ne aveva 1.000 fino a due giorni fa a Lampedusa che doveva smistare, fa un mando immediato per capire se nel territorio di Sciacca c'è un immobile disponibile, chiama il privato, che può essere anche su Piazza Angelo Scandaliate, ci porta 150 immigrati. Certo. Ambè, cioè stiamo parlando di nel giro di una settimana, quindi la scelta che stiamo facendo è quella di percorrere lo SPRAV, perché crediamo che è un momento di integrazione e lì gradualmente ospiteremo, faccio un esempio, il comune di Agrigento ha 300 adulti, rispetto a noi che ne abbiamo 15, quindi il comune di Comitini di 1.500 anime ha 40 adulti, ben oltre i numeri che dovrebbe avere. Cosa pensi di questo problema? Sì, io credo che le persone che dicono ci occupiamo più degli immigrati e meno degli italiani hanno in parte ragione. Per cui secondo me quando parlavo prima e dicevo dobbiamo intercettare bandi e dobbiamo lavorare di più per le persone italiane che vivono nel disagio, secondo me il problema lì va risolto. Perché oggi la percezione è quella. Tu parli con le famiglie povere, con tutti, qual è? Allora che fa? Me ne vado in Libia, sbarco e poi mi danno tutta l'assistenza di questo mondo. Perché oggi chi andrà a ministrare... È una situazione a frutto dell'emergenza questa. Frutto dell'emergenza. Ma oramai non si può parlare più di emergenza, si parla oramai di quotidiano, perché oramai diciamo in Africa, in Asia, da qualsiasi parte c'è veramente grande difficoltà. Per cui i nostri, diciamo persone che hanno difficoltà in Italia manca del lavoro. Per esempio una delle attività veramente che va molto bene è quello dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Per cui il comune di Sciacca è attivato nel tempo, stiamo completando, ma probabilmente ci saranno altre possibilità, quello di ex carcerati, ex tossicodipendenti, disabili, famiglie povere. Veramente un lavoro veramente che permette di dare dignità alle persone. Per cui oggi dobbiamo lavorare su quell'ambito. Perché se no noi ci concentriamo sugli immigrati che hanno una corsia preferenziale perché c'è questa emergenza. Ma secondo me chi ha governato è chiaro che stiamo parlando di prospettive. Bisogna far sì di potenziare quel settore perché sono quei settori che nel tempo porteranno risorse alla nostra città e offriranno dei servizi. Buscemi, lei cosa pensa di questo argomento? Io ho sentito una notizia nuova di questa storia. Vedete che c'è una legge pronta che dovrebbe uscire che ogni comune ha l'obbligo di assumere di prendere 0,3% di immigrati. La stanno mettendo in questi giorni. Mi hanno escusso se è una cosa a Palermo perché ci sono ad esempio comuni a nord comuni piccolini montane 300 persone e hanno 100 i pirati 70 emigrati quindi questo non può andare perché hanno sopraffatto e quindi stanno regolamentando i paesi sotto i 5 mila abitanti sono un massimo di 6 emigrati ma siccome istituire uno spar per 6 emigrati economicamente è vantaggioso si dà la possibilità anche ai comuni più piccoli di mettersi insieme e quindi c'è questa possibilità sul 3% che dice lei in realtà è il 2,5 per mila abitanti ma siccome il conto che fa il ministero lo fa su ambito regionale e in ambito regionale abbiamo 8 abitanti quindi dobbiamo accettare 8 emigrati ci sono i paesi nei piccoli che non possono riceverne più di tanto quindi i comuni che è più grossi se ne devono sobbarcare perché in realtà 168 non sono il 2,5 per mila abitanti a Sciacca dovrebbe essere 96 infatti l'abbiamo contestato in tutto questo faccio una premessa perdonatemi i minori non entrano in questo non entrano in questo la novità della legge sono soggetti deboli tra quelli deboli la novità che l'altro ieri ne abbiamo parlato col prefetto di questa normativa che è diventato legge che per gli adulti solo per gli adulti richiedenti asilo possono se vogliono loro fare i lavori di pubblica utilità questa è una novità sostanziale perché nel momento in cui tu apri uno Sprara Sciacca e gli assegni volontà sua perché non li puoi obbligare però non credo perché sono persone come noi forse sono un po' più mori di me ma sono persone come me e come lei ma secondo me anche loro si vogliono rendere utile alla società quindi quando tu apri uno struttore del gene e gli dici alla cooperativa che lo gestisce faccio un esempio vi dovete occupare della villa comunale loro si occupano della villa comunale oggi si può fare oggi si può fare solo per gli richiedenti asilo pulito scusami asilo politico e se loro vogliono i minori non è possibile i minori devono fare quelli che fanno i nostri figli andare a scuola andare a attività sportiva stare con le cuffie ascoltaranno la legge parla che noi abbiamo l'obbligo su ogni minore di fare un progetto deve essere seguito io voglio vedere chi qual è cooperativa fa il progetto e lo segue la inclusione sociale la scuola il dopo scuola e tutto 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 questo il colloquio psicologico nel bando non sono previste queste cose e allora dobbiamo istruirle queste cose ragazzi a sciacca devo dire la verità noi non abbiamo avuto grossi problemi rispetto anche quando io sono andato col prefetto ne abbiamo discusso più di una volta tra l'altro le cooperative che lavorano sul territorio il prefettura lo sanno e lui mi ripetisce dice a sciacca le cooperative fanno un bellissimo lavoro con questi ragazzi anche perché mi diceva la dottoressa passa l'acqua che tra di loro si parlano e loro sanno le strutture e ci sono strutture dove non vogliono andare se una struttura si trova sopra una montagna dove ci sono non ci vogliono quindi anche loro conoscono le strutture che funzionano bene e funzionano male devo dire che la realtà di sciacca è una realtà positiva perché l'esempio di Sant'Angelo Muxaro che salutiamo perché è un paesino piccolo non peraltro non ha il mare cosa pensa di questo problema poi torno da Boucher guarda io penso che il problema è europeo nazionale noi siamo praticamente lo scoglio che sta vivendo noi siamo lo scoso l'isola la nostra isola in Lampedusa è proprio lo scoglio che sta vivendo l'immigrazione quindi le soluzioni che secondo me potrebbero essere molto più semplici dovrebbero venire dai nostri deputati dai nostri sia europei che nazionali ed è secondo me una ricetta pure facile perché si parla di persone e l'Italia vive di famiglia la famiglia Italia funziona e la famiglia in Italia funziona io rischio di essere ripetitiva però mi è capitato mentre aspettavo la terapia di mia figlia che ha visto una ragazza credo che fosse ospitata proprio nella Valden una ragazza eritrea di 15 anni e aveva già un bambino di 9 mesi io mi sono fatta questa riflessione ma da persona di buon senso una persona come questa è vero che deve essere accolta in una comunità per essere guidata in un inserimento e essere inclusa in un sistema anche di lingue di scuole e così via dicendo ma poi ha ragione Marco la gente guarda li guarda come se fossero quasi dei privilegiati invece quella ragazza sarà stata sicuramente stuprata sarà venuta qui con un vissuto terrificante perché attraversare il deserto forse è peggio di attraversare il mar Mediterraneo e in tutto questo non si parla alla famiglia italiana cioè cosa il passaggio dovrebbe essere semplice fare un elenco affido certo un elenco affido è creare quella situazione per cui tu inserisci una ragazza bella di 15 anni con una bambina in una famiglia che è desiderosa di avere è passare da un primo pronto intervento ovviamente comunitario che ne stabilisce la validità anche dell'intervento perché non è che tutti sono affidabili le persone è chiaro però anche loro creare un sistema completamente diverso dove la società civile non subisce l'ondata ma la vive attivamente anzi secondo me io immagino il meccanico che avendo prendendo un ragazzo formato se lo mette in casa gli può dare pure un aiuto e il contributo ridotto andrebbe alla famiglia che contribuisce nella formazione e nella crescita secondo me questa è inclusione questa è vera integrazione questo invece come dice Marco postacchia diventa poi una guerra fra poveri i nostri poveri guardano quei poveri e dicono ma noi siamo i poveri italiani ed è vero senza servizi Buscemi una considerazione conclusiva su tutto quello che ci siamo detti oggi sul problema delle politiche sociali una riflessione ho avuto in questo giorno delle telefonate di inserimento ora il comune l'assistenziale del comune mi chiede avete estracomunitari non posso dire no perché la legge 6 ce lo impone di avere massimo 5 5 estracomunitari minori sul numero sui nativi in più ce lo impone quindi noi ne abbiamo 3 a sciacca 2 a sciacca 2 a la insomma mi stiamo un 10-12 non posso dire no devo dire sì va bene se allora richiamo io domani non richiamo più e cosa significa questo secondo lei? che non vogliono immischiare questa comunità con con nativi questo è grave è gravissimo questo è gravissimo sta facendo una denuncia molto ma che denuncia dobbiamo fare? no dico lei sta dicendo una cosa molto questo è sì sì sta dicendo una cosa molto grave personalmente a me non posso fare il nome il comune che è posso fare il nome ma stiamo arrivando a questo ora cosa dobbiamo fare noi un lato abbiamo la Ruggenza che dice tu io metto la mano in tasca metto la mano in tasca l'altro lato il comune ha il bisogno dice che minore che fascia di età c'è e che minori avete possiamo dire che non ce ne sono poi vengono li trovano e poi dicono no io non ve ne mando più dobbiamo essere forse sinceri quindi lì domani va bene domani dopo richiamo è successo anche a te Marco una cosa è successo il futuro delle politiche sociali il futuro delle politiche sociali secondo me è è in crisi e andremo più in crisi già c'erano delle politiche che hanno chiuso hanno chiuso le attività hanno chiuso tutto perché perché i comuni non pagano perché non ci sono interimenti perché non c'è questo perché sono tanti problemi io ad esempio ho dovuto ospitare sei ragazzi di urgenza il comune questa notte me lo deve fare dormire là cercamo un posto io ho cercato un posto perché la cooperativa deve chiudere poi mi sono informato che puoi chiudere il ruolo sul serio perché per mancanza di pagamento quello progetto quello quindi lei non è molto ottimista no io sono molto pessimista perché io da 16 anni che dalla scuola da 12 anni che sono in pensione mi sono buttato su questo perché ci dovevo tanto di dare un aiuto al ragazzino che non poteva al ragazzino alla loro famiglia ci dovevo tanto perché come docente di scuola conoscevo i problemi delle famiglie e tutto quindi mi sono buttato su questo lavoro va bene prima abbiamo lavorato bene ma da 3 anni 4 anni qua noi lavoriamo male oppure dobbiamo fare le scelte come che fanno altri solo immigrate e basta le attive dobbiamo dimendicare Mustacchi ma io sono ottimista per natura che le difficoltà ci siano non ci sono dubbi lo avete anche testimoniato assolutamente sì però io vedo che oggi il tema principale è le politiche sociali sì il tema è quello allora se il futuro della nostra città del nostro territorio pensa di fare una politica sociale efficace che tenga conto di tutti se non pensa a questo se pensiamo ad altre cose con rispetto per le altre cose io penso alle feste per esempio che vanno fatte ma vanno calmerate vanno gestite in una certa maniera oggi le politiche sociali vanno potenziate non con le parole perché siamo tutti bravi nella pratica perché oggi le persone io per esempio quando parto dal mio ufficio e vado al comune ci vado sempre a piedi perché mi fa bene almeno dieci persone mi fermano per diverse ragioni non soltanto per chiederti una cosa ma hanno bisogno di risposte le fasce sociali delle nostre città non hanno risposte e molto spesso chi non lavora è quasi disperato per cui le difficoltà ci sono ma noi che siamo chiamati come cooperative sociali ma come classe dirigente di queste città delle nostre città dobbiamo fare il possibile perché noi ringraziando il Signore abbiamo un pezzo di pane e possiamo vivere dignitosamente dobbiamo mettere gli altri nelle condizioni di vivere dignitosamente professoressa Campione una riflessione conclusiva sul futuro delle politiche sociali ma secondo me sono il profilo della città io ascoltavo mi è colpa di sì sono riflettevo sono il profilo proprio di un'amministrazione non sono sono proprio la scelta è tutto condizionato alle politiche sociali secondo me non c'è il clamo dell'amministrazione che che non deve abbracciare e non deve tenere conto la politica sociale ma non intesa soltanto settorialmente SPRAR progetti ma intesa proprio come uno stile di amministrare io faccio un esempio mi ricordo che una delle ultime battaglie che mi sono imposta che poi rimaste l'ascoltata è stata quella cimiteriale io mi ricordo che abbiamo affrontato questo tema abbiamo incontrato gli uffici perché la gente non ha i soldi per tumulare e il comune deve contribuire pagando di tasca il se stesso è assurdo quando andando al cimitero tantissime tombe sono assolutamente vuote decadenti e distrutte o una famiglia due o tre tombe io faccio un esempio voglio e voglio dire partendo proprio da questo come un po' la fenice prendo un esempio brutto che come potrebbe essere la tumulazione di una persona povera che è una disperazione come l'esempio della vita e come invece potrebbe essere un'occasione bella anche per anche per chi può avere i soldi di effettuare quelle risorse quella quella cioè ripristinare una tomba e dare un senso di decoro ai nostri morti io penso che il grado di civiltà si misura proprio nelle politiche sociali un sindaco un sindaco non può non tenerne conto e dovrebbe avere al proprio fianco o se non assume come ho chiesto io al sindaco dimettendomi prendi la tua carica perché è una delle più delicate delle più difficili delle più importanti e dà il profilo di quello che vogliamo essere io sono come Marco positiva non la vedo non vedo male però bisogna anche come dire sviscerare alcune criticità che ci sono e andare oltre Assessore M è vero che le politiche sociali danno anche il profilo di civiltà della civica amministrazione sì sicuramente non c'è dubbio rispetto alle criticità che sono messe stasera che uno su tutti è il problema del personale all'interno degli uffici sociali e lì ci stiamo mettendo mano proprio con queste due attività che stiamo facendo per gli assistenti sociali e per l'amministrativo e faccio un inciso per il cimitero perché era un problema che aveva lasciato Daniela e oggi stiamo predisponendo un nuovo bando per la vendita di zone del cimitero per le associazioni per per chi vuole costruire dei loculi associazioni di volontariato eccetera eccetera abbiamo l'idea di inserire nel nel bando la necessità che chi per avere un maggior punteggio ed aver assegnato un'aria devono lasciare faccio un numero a caso perché ancora non abbiamo deciso quale sarà la percentuale il 5% dei loculi che costituirà l'associazione X lo deve donare al comune proprio per queste persone bisognose che oggi non riescono neanche a fare la tumulazione perché non hanno i soldi quindi è un problema che Daniela aveva lasciato ci sto lavorando e in questi giorni spero di poterlo risolvere in questa maniera e in definitiva sul futuro delle politiche sociali cosa possiamo dire? finché rimane Crocetta siamo nel disastro più assoluto oggi ho letto un articolo sul giornale che è spaventoso lui ha 36 milioni di euro che ha decretato un mese fa ha scritto gli uffici dicendo questi 36 milioni adesso non ha fatto ancora i decreti per i disabili gravissimi ancora attendiamo oggi l'articolo sul giornale dice ai disabili gravissimi daremo circa dai 1000 ai 1800 euro al mese che non devono rendicontare siamo sull'assurdo siamo al paradosso le associazioni di disabili gli rispondono non esiste che non si deve rendicontare perché troveremo di alcune famiglie di disabili con tutte le macchine nuove fiammanti magari con il disabile che ha una situazione peggiorata ma io che devo fare lui risponde io ho questi soldi che fanno rispendono cioè siamo so che lui vuole rivisitare tutto quello che è il mondo della disabilità ma ancora non ci ha messo mano ma al di là della parentesi polemica politica questo è un articolo sul giornale oggi ho libertato quello che ha scritto il giornale lo leggevo stamattina mettiamolo sull'ottimismo e pessimismo così usciamo da questo credo che il primo segnale sia questo della SIA oggi l'altro giorno credo che sia stato il presidente Gentiloni diceva che hanno stanziato altri soldi proprio per l'inclusione attiva quindi emerge dalle famiglie parliamo del disagio della povertà emerge la necessità di lavoro quindi bisogna lavorare nella formazione delle persone affinché gli possa dare una vita dignitosa rilacciandola la SIA noi abbiamo previsto per l'ultima annualità delle borse delle somme di denaro di 10.000 euro che finito il percorso formativo della persona che aderisce alla SIA se vuole può anche accedere a quel finanziamento di 10.000 euro aprirsi un'attività impropria questa è la grande scommessa perché solo dando opportunità di lavoro noi potremmo migliorare la vita la qualità di vita a queste persone altrimenti è una guerra tra poveri nient'altro l'assistenza non funziona più allora siamo in conclusione sono molto contento di aver fatto questa trasmissione perché la testimonianza sulle politiche sociali è fondamentale e ringrazio gli ospiti che hanno accettato di partecipare a questo incontro l'appuntamento con Vespera alla prossima settimana grazie a tutti